Buonasera, buonasera, da Onda Tg in apertura subito. La sanità finisce finalmente l'agonia per un disabile sulmonese che può essere riammesso alle cure riabilitative. Una vittoria del TDM per l'avvocato Katia Puglielli. Proprio nei giorni scorsi c'è stata l'intesa con l'ASL Avezzano sul Monalacuila. Noi facciamo il punto nel servizio. Sta per finire l'agonia per un disabile sulmonese che dopo un anno di lunghe lotte e battaglia finalmente potrà essere riammesso alle cure riabilitative. Nei giorni scorsi è arrivata l'intesa in serie di giudizio fra il Tribunale per i diritti del malato e l'ASL Avezzano sul Monalacuila. Il caso era finito sul tavolo della Procura della Repubblica tramite un esposto presentato dall'avvocato del TDM Katia Puglielli. La storia comincia più di un anno fa quando il disabile sulmonese dovette cessare la riabilitazione nella struttura semiresidenziale per adulti San Francesco. In forza di una rivoluzione legislativa l'uomo di 68 anni viene dichiarato infatti nella categoria dei fuori setting coloro che secondo l'ASL non avrebbero diritto alla riabilitazione non potendo migliorare nella loro disabilità. Uno spiraglio di luce si aprì il 24 aprile 2015 quando il Tribunale di Sulmona diede ragione all'uomo condannando l'ASL a pagare le spese e all'immediato reintegro, ma la mara sorpresa arrivò di lì a poco quando la stessa ASL negò l'autorizzazione per la ripresa delle cure riabilitative, la buona notizia invece di pochi giorni fa. Il direttore generale dell'ASL ha firmato un atto di rinuncia al giudizio e ha comunicato la struttura riabilitativa e il procedimento giudiziario, spiega Puglielli. Il legale del TDM tiene a precisare che ora non ci sono più impedimenti per il reintegro dell'uomo presso il centro di San Francesco. La vicenda del disabile di Sulmona è una sorta di apripista per una miriade di casi a livello regionale. Nel 2014 sull'Adavezzano se ne sono registrati 25. E ora la cronaca ancora gravemente ferito il ciclista investito nei giorni scorsi sulla Statale 17 nei pressi del Bivio di Pratola e ricoverato al San Salvatore dell'Aquila. Per i medici le condizioni sono stazionarie. Restano gravi le condizioni del 17enne investito nei giorni scorsi da un furgone sulla Statale 17 all'altezza del Bivio di Pratola a Peligna. Dopo il violento impatto con il mezzo pesante le condizioni del ragazzo destavano subito preoccupazione. Nel giro di poco tempo è stato prima sottoposto alle cure presso l'ospedale di Sulmona dopodiché si è reso necessario il trasferimento a San Salvatore dell'Aquila dove è tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Per i medici del nosocomio aquilano le condizioni per il momento restano stazionarie. Ulteriori valutazioni saranno effettuate nelle prossime ore. Nei pressi del Bivio di Pratola, stando ai primi rilievi, sembrerebbe che il ciclista abbia svoltato sulla sinistra con l'intento di imboccare via Trieste. Da lì l'impatto violentissimo con il mezzo pesante che anch'esso procedeva in direzione nord. Tocca ai carabinieri della stazione di Pratola a Peligna a far luce sul caso attraverso le indagini. Dall'altra parte un'intera comunità che segue con apprezzione la vicenda sta facendo il tifo in queste ore per il giovane rimasto gravemente ferito. Ciclista investito in Viale della Repubblica oggi a Sulmona. Impatto con una panda ma fortunatamente non è nulla di grave. Ciclista è stato investito nella tarda mattinata in Viale della Repubblica nella cosiddetta zona Celidonio. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un uomo di mezza età che è stato accompagnato da un'ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale Cittadino. Le sue condizioni fortunatamente sono buone dal momento che avrebbe accusato solo un dolore alla spalla. L'impatto si è verificato con una panda bianca guidata da una donna che procedeva in direzione Viale della Repubblica. La dinamica dell'incidente, ancora tutta da ricostruire, è al vaglio degli agenti del commissariato di via Sallustio che sono intervenuti sul posto per rilievi di rito assieme ai carabinieri. Per la donna e per il ciclista soltanto un grande spavento, mentre non pochi passanti si sono fermati sul luogo dell'incidente che non è passato, inosservato. Si tratta dell'ennesimo scontro che si registra in Viale della Repubblica. L'ultimo ci fu quest'estate, proprio nell'incrocio con Viale del lavoro. E ora l'inchiesta legata alla ricostruzione post-sisma in Abruzzo perché sono stati revocati tutti e sei gli indagati sottoposti alle misure cautelare, sono stati revocati gli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta Earthquake sul presunto sistema di tangenti relativo alla ricostruzione post-sisma in Abruzzo, in particolare nei comuni di Bussi, Sulterino e Bugnara. Il GIP del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, questa mattina ha firmato la revoca degli arresti per Angelo Melchiorra, indagato in qualità di responsabile tecnico del comune di Bussi e dell'ufficio territoriale per la ricostruzione numero 5, mentre ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora nel comune di residenza per Emilio Di Carlo, direttore dei lavori e progettista degli aggregati 43-45 del comune di Bussi, per Marino Scancella, architetto incaricato della progettazione dell'aggregato 30 del comune di Bussi, per l'imprenditore Umbro Stefano Roscini, per l'ex colonnello dell'esercito Gianpietro Piccotti e per il tecnico ed ex consigliere del comune di Gubbio Angelo Riccardini. Per quanto riguarda di Carlo Scannella, Riccardini e Roscini, il GIP ha disposto anche il diveto temporaneo dell'esercizio della propria attività professionale. PM Anna Rita Mantini e Mirvana Di Serio, titolari dell'inchiesta, avevano espresso parere negativo su tutte le richieste di revoca degli arresti, a eccezione di quella a carico di Piccotti, che avevano avallato per motivi di salute. E ora cambiamo argomento. Accordo comune di Sulmona-INGV al via il progetto pilota sullo studio della prevenzione sismica poco fa l'affollato convegno nella Sala del Pacifico. Noi vediamo tutto nel servizio. Si grata la convenzione fra il comune di Sulmona e l'INGV per un monitoraggio più attento del territorio sotto il profilo della prevenzione sismica e quanto è venuto fuori dal convegno cosa c'è sotto il terremoto a Sulmona che si è svolto oggi nella Sala Gremita del Cinema Pacifico. È stato il presidente dell'INGV Carlo Doglioni a spiegare come si concretizzerà l'azione di controllo e prevenzione. Utilizzeremo tutti i pozzi disponibili, faremo un apposito censimento di quelli che sono aperti e utilizzabili, spiega Doglioni, facendo notare come il vero monitoraggio deve essere multiparametrico, cioè deve considerare più elementi. Variazioni della falda, sismicità ovviamente, monitoraggio geodetico, ogni tipo di segnale che la Terra ci dà vogliamo in qualche modo incrementarlo. Da qui l'esigenza di utilizzare sismografi, stazioni GPS, rilevatori geochimici per misurare le variazioni di temperatura e della quantità di gas. A proposito delle faglie della Maielle del Morrone, il presidente INGV ha venuto a precisare che più che le faglie sono da monitorare i volumi. Perché a volte si attiva una faglia, a volte si inattiva un'altra. Quello che conta è che l'energia è accumulata nei volumi, non lungo le faglie. Questa è una zona ad alta pericolosità sismica e di conseguenza, vista anche la grande vulnerabilità degli edifici e anche la forte presenza umana, qui è chiaro che il rischio è molto alto. Purtroppo è una delle zone in cui la sorveglianza deve essere massima. Che Sulmona debba essere un punto di riferimento per lo studio sulla prevenzione sismica lo ha annunciato il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale con delega alla protezione civile Mario Mazzocca, parlando di Sulmona città pilota anche sotto il profilo dell'edilizia. Posso candidare ad essere una sorta di realtà pilota per vedere come poter realizzare questo piano casa in Ambrusia. Al convegno al cinema pacifico moderato dalla giornalista Giuliana Susi sono intervenuti numerosi esperti fra docenti e ingegneri. I saluti seduzionali sono toccati al sindaco Anna Maria Casini e all'assessore regionale alle aree interne Andrea Gerosolimo. Dall'altro occorre che la ricerca, attraverso dei monitoraggi puntuali, riesca a favorire la conoscenza del territorio e quindi che alla base della messa in opera di tutte quelle azioni di natura urbanistica, strutturale, che ci aiuterebbero a mettere veramente in sicurezza una città. Per l'assessore Gerosolimo quella delle prevenzioni deve essere una sfida che le aree interne devono vincere a tutti i costi. Io credo che bisogna passare dalla fase dell'emergenza, che è quella verso la quale noi manifestiamo attenzione, alla fase della prevenzione. La vera sfida sarà quella di far sì che si inizi proprio dalle aree interne della regione Abruzzo ad invertire la rotta. L'ex caserma Cesare Battisti torni a vivere è l'appello dei sulmonessi che nel nostro sondaggio dicono la loro. Sentiamo. La caserma Battisti, secondo lei, che cosa si può trasferire? Qualcuno dice gli uffici. L'università. Però anche gli uffici non sarebbe una cattiva idea. L'università o gli uffici? Ma sì, indubbiamente è una cosa positiva, almeno per rilevare questi scempi disabitati dalla città. Gli uffici comunali della caserma Battisti? Sì, favorevole. No, 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 sono d'accordo, perché è giusto che siano in un ambiente più grande, facilmente raggiungibili con la macchina, dalle persone che non possono camminare e magari lasciare qualche ufficio più importante nel centro storico, anche come rappresentanza. Potrebbe essere utile se sono più facilmente raggiungibili e comunque collocati al centro, sarebbe pure un modo di riattivarlo, insomma, il centro, visto la desolazione che lo caratterizza ultimamente. E' leggero all'interno, così si accede facilmente agli uffici. Gli uffici importanti, come il comune, come la ASD, è essenziale che la occupano quella caserma, perché non può stare così vuota. I progetti sull'ex caserma Cesare Battisti non cadano nel dimenticatoio. È il momento di riempire l'immobile con i servizi utili alla cittadinanza. Questo l'accorato monito che arriva dai sulmonessi ai microfoni di onda di G nel corso della raccolta di opinioni dove non pochi cittadini hanno detto la loro sulla destinazione dello storico edificio di Viale Mazzini. La maggior parte degli intervistati non si discosta dalla linea del sindaco di Sulmona Maria Casini, che nei giorni scorsi aveva annunciato il dirottamento di alcuni uffici e servizi comunali nell'ex caserma. Se l'uso di alcuni servizi può agevolare i cittadini per un accesso più rapido, ben venga, hanno rilevato i sulmonessi nel corso del sondaggio. La raccomandazione è quella di lasciare nel centro cittadino gli uffici più importanti e di prestare massima attenzione a non svuotare il salotto della città. C'è chi nel frattempo chiede di riservare uno spazio per gli uffici della ASL. Qualcuno sogna uno sforzo maggiore pensando a una facoltà universitaria. Torna alla ribalta anche il discorso dei parcheggi, necessità più volte sollevata dal consigliere comunale Alessandro Pantaleo e dall'ex consigliere Gianfranco Di Piero. In una città che spesso si cuce addosso l'etichetta della patria e della lama in tela, ogni tanto qualche proposta che arriva dal basso non fa mai male. Sulla riqualificazione dell'ex caserma Battisti e al lavoro l'amministrazione Casini, che oltre alla strada degli uffici e dei servizi comunali potrebbe percorrere anche quella dei MUSP per gli alunni dell'Istituto Masciangeli, vista l'ampiezza del fabbricato. E ora torniamo a parlare delle celebrazioni di Ovidio 2017. Si fa sentire il presidente della DMSI Terre d'Amore in Abruzzo, Fabio Spinosa Pingue, si guardi all'indotto economico, ha detto a Onda Tg. Sentiamo meglio nei servizi. Attorno ad Ovidio 2017 un indotto, una sorta di fabbrica che in qualche modo ci permette qui di attrarre turismo. E' il presidente della DMSI Terre d'Amore in Abruzzo, Fabio Spinosa Pingue, a interpretare i sentimenti di imprenditori, abbergatori e operatori del turismo a proposito delle celebrazioni pre-bimillenario della morte del sommo poeta Peligno. Spinosa auspica che il 2017 sia una straordinaria occasione per ridisegnare questo sul mona e il suo territorio anche dal punto di vista economico. Ciò che conta è che Nascone indotto e che il 2017 non sia solo un punto di arrivo in calza il presidente della DMSI che annuncia l'inaugurazione di Spazio Video, l'area dedicata al poeta che sorgerà in seno all'ex convento di Santa Caterina per il prossimo anno. Approfitto anche per ricordare che ci sarà nel 2017 l'inaugurazione di Spazio Video di questo museo che finalmente la città dona al nostro concittadino video. L'appello di Pingo è arrivato nel corso della presentazione di Abruzzo Open Day Winter, vetrina promossa sempre della DMSI Tere d'Amore dove si è parlato di turismo industriale, una filosofia che prevede la programmazione anticipata, un occhio al budget senza pontificare troppo. Ovidio 2017 nel frattempo interesserà anche il Comune di Roma all'indomani della visita istituzionale del sindaco di Sulmona Anna Maria Casini e dell'assessore regionale dell'area interni Andrea Gerosolimo con l'assessore del Comune di Roma Luca Bergamo. Stando a quanto riferito al primo cittadino, il programma delle celebrazioni sarà presentato nella seconda metà di dicembre mentre dal lunedì 24 ottobre per 15 giorni sarà pubblico sul silo del Comune il concorso di idee per il marchio del bimilenario che identificherà tutte le celebrazioni. Arriva il certificato Cambridge di lingua inglese per 150 studenti del polo umanistico Ovidio di Sulmona nei giorni scorsi la cerimonia liceo Mazzara. Vediamo. Circa 150 studenti del polo umanistico Ovidio hanno ricevuto il diploma di certificazione Cambridge dopo aver superato la prova d'esame svoltasi nello scorso mese di giugno. La consegna degli attestati è avvenuta nei giorni scorsi nel corso di una cerimonia che si è svolta nell'olamagna del liceo Mazzara alla presenza di Vittoria Liberatore Fabrizio Buoncompagno docenti referenti del progetto. L'istituto di istruzione superiore Ovidio direttore al dirigente scolastico Catrina Fantauzzi è accreditato come serie di corso ed esame del Cambridge una qualifica spendibile immediatamente nell'università e nel mondo del lavoro e indubbiamente un'ottima carta di presentazione per qualsiasi avvenire ha sottolineato la professoressa Liberatore ricordando che si tratta di un livello di preparazione apprezzato in Italia e all'estero. Molto importante avere oggi una certificazione che attesti il livello di preparazione perché le certificazioni Cambridge sono apprezzate soprattutto dai datori di lavoro e questo è importante perché se si vuole trovare un qualsiasi impiego sia in Italia che all'estero è necessario dimostrare una certa conoscenza della lingua inglese. I liceali come ricordare il professor Buoncompagno vengono esaminati direttamente da un'apposita commissione Cambridge. Abbiamo come supporto i docenti dei docenti madrelingua che ci aiutano ovviamente nella parte soprattutto dello speaking. Nel mese di giugno avviene la sessione d'esame che è uguale in tutta Italia e in tutto il mondo perché sono date a livello nazionale ma anche internazionale. I ragazzi vengono sottoposti a questi esami viene una commissione proprio del Cambridge ad esaminare i nostri ragazzi e tempo 20 giorni i ragazzi hanno i risultati. Quest'anno il risultato può dirsi senza dubbio soddisfacente dal momento che il 92% degli studenti ha superato la prova portando a casa la certificazione prezioso elemento del curriculum vite. Sui 170 iscritti sono passati infatti in 150 anche le iscrizioni rispetto agli anni passati sono in crescita. con il progetto non solo il polo video promuove e rafforza lo studio e la dimestichezza con la lingua inglese ma guarda il futuro degli studenti nonché alla loro crescita professionale e intellettuale. Ora ci spostiamo nel capologo di regione per parlare dell'Accademia delle Belle Arti dove ha chiuso il congresso internazionale del restauro. Le interviste. Il gruppo italiano dell'International Conservation si promette di riunire quelli che sono gli operatori del restauro intorno al tema di come si fa il restauro ovvero di quali sono le motivazioni e i nuovi prodotti che portano allo sviluppo della tecnologia del restauro a due livelli quello nazionale che è quello che è rappresentato dall'Assemblea dove vengono raccolti i contributi fatti da tutti gli operatori e da tutti i soci del gruppo e nel tentativo di creare un luogo di confronto e di comunicazione e a livello internazionale facendo emergere il valore del restauro italiano alla sede di Londra e a livello internazionale con i 106 paesi ad esser collegati che rappresentano appunto l'International Institute for Conservation della casa madre dalla quale dipende il gruppo italiano abbiamo pensato di ospitare questo congresso per dare la possibilità ai nostri studenti di valutare le tecnologie e le tecniche più avanzate di restauro che ci sono attualmente accanto a questo congresso ospitiamo anche questa bella mostra che è in visione dei disegni dell'antico i disegni dell'architetto Giovanni Ioppolo che ovviamente ha realizzato nel corso della sua attività l'insieme di queste iniziative per noi sono appunto importanti per cercare di fare di questa istituzione un centro di ricerca di alta formazione artistica e scientifica che è l'obiettivo proprio della nostra istituzione Campioni si nasce o si diventa e questa è la domanda da cui trae e spunto il nuovo testo di Massimiliano Ruggero nel suo ultimo libro Vince chi si alza prima che sarà presentato in anteprima all'Aquila prossimo lunedì 24 ottobre a partire dalle 18.30 presso la sala convegni del Lange l'Associazione Nazionale dei Costruttori ed Ili il programma della serata promosso da Banca Generali prevede gli interventi oltre che di Massimiliano Ruggero di Massimo Cialente sindaco dell'Aquila Alessandro Di Tunno Vincenzo Troiani e Agata Nonnati nel suo libro Ruggero demolisce tutti i luoghi comuni che vogliono il campione essere l'espressione di genio e impredibilità così come la convinzione che le vittorie siano esclusivamente frutto dell'applicazione metodica di regole enorme di condotta tutte improntate al sacrificio e alla disciplina Anche Prezza nella grande settimana dedicata all'obruzzo Pendei Winter con la rievocazione della cattura di Malmozzetto sentiamo meglio nel servizio La spada della rosa si chiama così la rappresentazione storica della cattura di Malmozzetto che sarà rievocata a Prezza domenica 30 ottobre a partire dalle ore 15 musica storia tradizioni ricette culinarie di un tempo tutto in un pomeriggio l'appuntamento rientra nella settimana dell'Abruzzo Pendei Winter che fa tappa anche a Prezza terrazza della Valle Peligna il sindaco Marianna Scoccia Sì abbiamo aderito anche noi seguendo questo progetto della DMC con Abruzzo Pendei e abbiamo creato una nuova manifestazione che è la battaglia di Malmozzetto una rievocazione storica che si terrà nella piazza del paese di un fatto poi realmente accaduto nel 1097 per cui in epoca medievale una manifestazione a mio avviso nuova originale perché innanzitutto ci ha dato la possibilità di riunificare il nostro paese gli attori principali saranno proprio gli abitanti di Prezza saranno tutti prezzani e abbiamo scenografato stiamo scenografando un paese completamente anche gli abiti sono stati creati da tutti quanti noi e noi cambiamo argomento perché la festa dell'etargo diventa itinerante e quest'anno tocca ad avversa degli Abruzzi sentiamo meglio o nel servizio una festa itinerante che di anno in anno si si poggerà in un paese diverso fra quelli interessati dalla presenza del plantigrado in tutta la fascia di interconnessione fra Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise e Parco Nazionale della Maiella questa è la novità della festa dell'etargo che esce dai confini al suo terzo anno di vita l'appuntamento per la permessa organizzata dell'associazione della parte dell'orso in collaborazione con Salviamo l'orso e OASI WWF Fegole del Sagittario e per domenica 20 novembre ad Amversa degli Abruzzi il momento di confronto verterà sul tema degli orsi confidenti e sul contributo dell'associazione alla conservazione della specie il problema della convivenza fra orso e uomo è tornato alla ribalta quest'anno con forza sottolinea il presidente dell'associazione della parte dell'orso Filippo Carassai di recente abbiamo avuto la drammatica morte dell'orso investito nei pressi di Roccaraso prima Peppina si era fatta vedere a Sulmona in un areale che si espande sempre di più coinvolgendo più comuni interessati e in seguito le polemiche sulla gestione di un orso confidente a civetela al Fedena ricorda Carassai per il presidente dell'associazione c'è bisogno di avere misure più adeguate per tutelare i nostri orsi ma anche più coinvolgimento dei cittadini sull'importanza della loro sopravvivenza abbiamo quindi deciso di trasformare da quest'anno la festa dell'etargo nata come occasione d'incontro per far conoscere e parlare del plantigrado in una festa edinerante che di anno in anno si svolgerà in un paese diverso conclude Carassai nel corso della festa fra gli altri interviene il professor Paolo Ciucci docente presso l'Università della Sapienza di Roma uno dei massimi esperti sull'orso a livello scientifico e ora apriamo la pagina sportiva con il calcio e con l'anticipo della Sulmonese Ofena pareggio a reti bianche della Sulmonese Ofena nell'anticipo di oggi contro il passo cordone lo 0 a 0 è da considerare un risultato buono per la squadra di Scandurra in considerazione delle difficoltà che presentava il confronto contro un avversario quotato in attesa dei risultati di domani i biancorossi guadagnano il momentaneo quinto posto raggiungendo a 12 punti la Val di Sangro e il Raiano nell'altro anticipo di oggi il Castello 2000 ha sconfitto in casa il Villa 2015 con tutte e tre le reti realizzate nella ripresa campionato di eccellenza e promozione vediamo quali sono gli impegni delle squadre peligne attesi per domani nel servizio di Domenico Berlingeri i nero stellati rappresentano sicuramente una nota lieta di quest'inizio stagione così come l'acqua e sapone entrambe con gli stessi punti in classifica ai margini della zona playoff domani si ritroveranno l'una di fronte all'altra nel match in programma Montesilvano la squadra di Matteo Di Marzio dopo aver fermato la capolista Franca Villa proverà a dire la sua al cospetto di una diretta concorrente per la salvezza anche se chi dovesse vincere tra le due potrebbe rafforzare la propria posizione nelle zone alte della classifica in considerazione di difficili impegni di alcune squadre che si trovano alle spalle per i pratolani la gara però si presenta molto difficile perché i padroni di casa dopo la pesante sconfitta per 6 a 2 di domenica scorsa a Cuppello vorranno farsi perdonare davanti al proprio pubblico i nerostellati cercheranno di sfruttare le qualità a disposizione che stanno permettendo di essere la squadra con la migliora difesa del campionato e con una buona organizzazione in tutti i reparti arbitrerà Michelangelo Moretti di Teramo designati due assistenti donna Mara Mainella di Lanciano e Lorenza Caporali di Pescara nel girone B di promozione Raiano domani riceverà la capolista Chietitore Alex l'ultima gara vinta a Casalbordino ha dimostrato che la formazione di Antinucci è ripresa ma questa volta la gara si presenta ostica contro l'unica squadra del campionato a punteggio pieno l'attuale quinto posto in classifica dei raianesi evidenzia un ruolino di marcia che sta andando oltre le più rose aspettative arbitrerà Valerio Nicola di Avezzano assistenti Carnevale di Avezzano e Pennese di Pescara e nelle girone A del campionato di seconda categoria tornano a giocare in casa il Pacentro e la Morronese entrambe reduci da sconfitta in trasferta per 5 a 1 domani proveranno a riscattarsi vincendo i rispettivi confronti non sarà facile perché sia Pacentro che Moronese ospiteranno formazioni a punteggio pieno in classifica i Pacentrani affronteranno il Genzano che nel turno precedente ha battuto la Morronese mentre la squadra delle frazioni se la dovrà vedere contro il San Francesco vittoriosa domenica scorsa per 4 a 1 contro la San Gregoriese Pacentro Genzano sarà arbitrata la Francesco Bonitatibus di Sulmona mentre Moronese San Francesco D'Antonio Ippoliti di Avezzano calcio d'inizio alle 15 e 30 e dal calcio passiamo al rugby perché nel campionato di Serie C il rugby il Sulmona 1967 affronterà domani in casa al campo in località incoronata il Tortoreto con inizio alle 15 e 30 per la terza giornata di andata i gelorossi di Mauro Ranalli sono vogliosi ritornare a successo dopo la battura d'arresto di domenica scorsa a Pescara e Sulmona proverà a sfruttare il fattore casalingo così come avvenuto nella prima giornata contro il Fabriano e come ogni sera non possiamo concludere senza la buona notizia più che una buona notizia è una speranza per un luogo storico 27 studenti del Politecnico di Milano saranno a Sulmona venerdì prossimo per effettuare un sopralluogo alla stazione di Sulmona entro d'acqua nel quadro delle ricerche messe in atto presso il Laboratorio 3 della Facoltà di Architettura gli universitari saranno accompagnati da tre insegnanti tra cui l'architetto Emilia Corradi coordinatrice del progetto che ha già condotto analoga ricerca presso la stazione ferroviaria di Molina Terno durante lo scorso anno accademico e i cui elaborati sono stati presentati alla Biennale di Venezia quest'estate dall'attività di ricerca sulle infrastrutture dimenticate sulla loro capacità di rigenerare nuove prospettive di sviluppo nel quadro degli interventi europei del sud-est europeo è stata tratta già un'interessantissima pubblicazione un'occasione di rilancio si spera anche di recupero per la storica linea ferroviaria che spesso cade nel degrado e nell'abbandono con un manto stradale da riqualificare e una montagna di rifiuti che spesso si viene a creare a causa dei ripetuti colpi di inciviltà vi ricordo alle 21 l'appuntamento settimanale con la rubrica religiosa il respiro dell'anima curata dal vescovo di Smona Val Angelo Spina ebbene era questa l'ultima notizia la prossima edizione lunedì alle 13.30 grazie per essere rimasti con noi a tutti buon fine settimana e buona domenica grazie per la visione